Il porto di Piombino diventerà uno dei più importanti poli per la movimentazione di auto nuove. Lo stabilisce l'intesa, siglata a Firenze in Palazzo Strozzi Sacrati, dal presidente della regione toscana, dal sindaco di Piombino e dall'amministratore di Manta Logistics, società del gruppo onorato, che prevede la movimentazione nello scalo di oltre 230.000 veicoli nuovi ogni anno, con una previsione di ricaduta economica entro il 2023 di oltre 100 milioni di euro e di 80 posti in più nell'immediato. Il progetto ha un valore stimato di 17 milioni di euro. L'accordo è stato spiegato, prevede la realizzazione di un nuovo terminal con accesso garantito a una banchina su un'area di 50.000 metri quadrati, destinati a crescere fino a 300.000, con la prospettiva di rendere il porto di Piombino un polo di riferimento per i traffici commerciali, in particolare verso est, mettendo così anche a frutto gli investimenti pubblici effettuati nel porto a partire dall'escavo di 20 metri realizzato dalla regione. Grazie. 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 Grazie.